Salve a tutti e benvenuti dal Campo Oliviero. Abbiamo appena giocato la semifinale di questo torneo e hanno giocato le squadre Napoletana, Cafè e Tiom. A vincere sono stati Tiom per l'usitato di 3 a 1. A segnare sono stati Croce, Prisco e Ippolito. Per l'altra squadra, Uno e Lardi. Facciamoli presentare. Raffaele Riccardi, Narte e Raffaele, Alessandro Ippolito, primo marcatore della partita. Armando Toscano. Ok, siete qualificati per la finalissima, quindi dalla settimana prossima. Ecco, li stanno arrivando. Anche Santoro, Santoro, difensore di fuoco. No! Cazzo. Vabbè, vieni a fare intervista. Vabbè, siamo qualificati per la settimana prossima, per la finalissima. Sono felicissimo, a nome di tutti quanti, perché da tanti anni aspettavamo l'arriare in finale. E quest'anno ci siamo saluti alla cassa. Vabbè, continuiamo, lui? Noi continuiamo. Quest'anno finalmente siamo riusciti. Oggi è stata una partita molto difficile, te lo giuro di perdere. Perché loro erano bravi, il campo era impraticabile. Poi, infatti, quando il campo si è un po' aggiustato, mi ha iniziato a giocare un po' meglio. E niente, voglio fare le complimenti al mio grande amico Alessandro, che ha fatto un gol. O c'è, cioè, gli hanno tirato addosso e lui ha parlato di importa. Alessandro, a chi lo vogliamo dedicare questo gol? A Pasquale e Damiano, che oggi non c'è perché è stato espulso l'ultima partita. Quindi ci ha seguito, ci ha fatto arrivare anche lui fino a questo punto, quindi la dedico a lui questa vittoria. Che non c'è in questo momento. Tu invece, portiere, giusto? Ok. Hai fatto grandi parate, ricordiamo. Ok. Sei pronto per la settimana prossima? Sì, siamo pronti. Questa vittoria la voglio dedicare al mio amico Riccardi e a tutta la squadra. Lo vinciamo a questo torneo? L'importante è arrivare in finale, poi si vede. Beh, tu devi dire sì. Ce la giochiamo la finale. Ce la giochiamo e vinciamo. L'ho detto la prima partita e lo dico pure uno. Bravo, bravo. Il miglior portiere a casa per il momento. Sei tu il miglior portiere? Sei sicuro? Ah, vabbè. Zai hanno detto non è proprio vero. Comunque sì, lo vince lui. Entro qua. Niente, volevo solo dire, c'è la mia ragazza che è venuta per la prima volta a vedermi, quindi... Salutiamo. Ciao. La dedica a lei per la partita di me. Ho fatto una brutta partita oggi, però gli la dedico lo stesso. Va bene, va bene. Una buona Maverix a tutti, quelli che sono rimasti, cioè noi. Ci vediamo la settimana prossima. In bocca al lupo e un bacio alla Maverix.